salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui oggi con un nuovo unboxing come potete vedere oggi andremo a vedere la playstation tv che ho trovato in offerta qualche giorno fa mi metto come sempre il link in descrizione la playstation tv non è altro che una playstation vita quindi la portatile sony in versione fissa playstation vita che naturalmente come tutti ben saprete ha molte difficoltà serie difficoltà con ogni probabilità è morta almeno da noi in occidente giochi non se ne vedono tantissimi ce ne sono veramente pochi e per il futuro non sembra ci siano grandissime prospettive mentre in oriente sicuramente ci sono un po' più di uscite interessanti per quel mercato e io ho preso questa playstation tv perché perché comunque alcuni titoli per playstation vita ci sono ci sono inoltre per chi ha l'abbonamento al playstation plus giochi gratuiti ogni mese per quanto come detto non siano magari tutti dei capolavori ma soprattutto perché perché l'ho trovata praticamente a 20 euro quindi per quel prezzo direi che ci poteva stare perché perché inoltre con la playstation tv ve potete utilizzare anche lo streaming da playstation 4 ad un altro schermo quindi ad esempio se avete la playstation 4 in salotto e voi siete in camera e volete giocare potete collegare questa qui alla tv della vostra camera e giocare i streaming senza occupare la tv della sala così come essendoci un'uscita hdmi potete giocare i vostri titoli della playstation vita sullo schermo di conseguenza io potrei anche proporvi qualcosina perché come detto non ci sono grandissimi capolavori però qualche gioco c'è e mi piacerebbe magari portarvelo faccio vedere brevemente lo scatolotto come vedete anche qui è indicata appunto la possibilità di riprodurre streaming i giochi della playstation 4 su un altro tv così come si può fare anche sullo schermo della playstation vita inizia a giocare su ps4 e continua a giocare su playstation tv una volta che viano cacciato appedate dalla tv principale eventualmente qui ci fa una breve panoramica su un microsistema compatto elegante e semplice da utilizzare che ti permette di riprodurre streaming i giochi per playstation 4 su un altro tv hd e di visualizzare i giochi compatibili con playstation vita psp ps1 sul tuo tv perché naturalmente c'è il playstation store quindi volendo voi potete anche scaricare sulla playstation tv i giochi disponibili appunto per psp playstation 1 che assolutamente è una cosa diciamo molto positiva perché io ad esempio alcuni giochi per ps1 li ho presi in digitale quindi potrei scaricarli su questa qui che adesso vedremo che è estremamente compatta inoltre come potete vedere all'interno della confezione c'è anche un codice per scaricare velocity worms e holly holly ma veniamo subito allo spacchettamento troviamo la confezione dove ci sarà all'interno il codice per scaricare i giochi che abbiamo visto infatti all'interno come vedete c'è foglietto con il codice per poterli scaricare poi troviamo un'altra scatolò con la nostra playstation tv andiamola subito a sfilare che è estremamente compatta sapevo fosse piccolissima ma non così faccio vedere quanto è grande ve la comparo con una confezione dei giochi playstation vita che è una confezione già piccolissima infatti ve la comparo anche con la confezione di un blu ray non di un dvd ma bensì di un blu ray quindi come potete vedere estremamente compatta la parte superiore e la parte inferiore sono opache mentre il contorno lucido con il marchio sony davanti e qui si accenderà un led e la parte posteriore anche questa lucida faccio vedere un po i vari ingressi il primo ingresso è naturalmente come potete vedere per collegarla alla corrente elettrica poi abbiamo un ingresso per il cavo ethernet ingresso cavo hdmi porta usb per poter collegare il pad della playstation 3 o playstation 4 qui abbiamo lo slot per la scheda di memoria di proprietà quindi la scheda di memoria che trovate anche nella playstation vita cioè questa qui io ce l'avevo già appunto da playstation vita da 16 giga perché la playstation tv c'è già una memoria da un giga ma comunque con un giga non è che ci fate molto anche perché poi scarica se avete il playstation plus e che onestamente la consiglio soprattutto se avete il playstation plus quindi con giochi gratuiti ogni mese non ci fate molto la riempite abbastanza facilmente e poi abbiamo il tasto di accensione spegnimento mentre nella parte laterale abbiamo l'ingresso per i giochi quindi qui possiamo inserire anche le schede di gioco perfetto quindi adesso andiamo a vedere cos'altro c'è all'interno della confezione troviamo un cavo hdmi poi troviamo l'alimentatore naturalmente qui va collegato l'altro cavo per la presa di corrente poi ci sono i vari foglietti delle garanzie e poi naturalmente troviamo anche il libretto delle istruzioni che ci spiega un po tutto come vedete la porta usb può essere utilizzata sia per collegare il pad della playstation 3 che il pad della playstation 4 naturalmente calcolando che andremo a giocare anche titoli per playstation vita ci fa vedere come simulare diciamo il touchpad della playstation vita naturalmente la cosa è più agevole con il pad della playstation 4 perché come vedete basta cliccare se non sbaglio l3 e poi utilizzare il touchpad del pad playstation 4 perfetto ragazzi quindi questo qui era un brevissimo unboxing di questa playstation tv vi ricordo che comunque non tutti i giochi non tutto il parco titoli della playstation vita è compatibile con questa playstation tv sul sito della sony trovate comunque un elenco dettagliato in tutti i titoli playstation vita appunto che potete giocare tramite la playstation tv come detto io l'ho acquistata perché ho trovato un offertona che l'ho pagata praticamente 20 euro su amazon vi lascio il link in descrizione c'era un periodo dove un concorrente aveva messo anche la playstation tv a quel prezzo anzi pochissimo di più se non sbaglio e quindi amazon di solito si regola quindi io la tengo sempre d'occhio perché quando so che magari qualche altro sito o qualche altro store fa un'offerta amazon si adegua per quel periodo e quindi lo utilizzo spesso e ho approfittato di questa offertona diciamo che a 20 euro ci può stare di più diciamo non la consiglierei perché come avete visto le possibilità sono limitate certo se voi avete un abbonamento playstation plus appunto la trovate ad un prezzo del genere direi di sì perché comunque sono giochi regalati ogni mese che potete sfruttare con playstation tv e noi ragazzi allora ci vediamo con i prossimi video come sempre fatemi sapere la vostra e magari vi farò vedere anche qualche giochino della playstation vita giochino gioco con i vedremo visto che adesso appunto come con questa posso anche registrare vi farò vedere se dai qualcosina anche di playstation vita poi come detto fatemi sapere la vostra seguitemi sulla pagina facebook sul secondo canale e un saluto a tutti da questa leale a tutti